Quanto tempo sai resistere senza guardare lo schermo del tuo smartphone? Ecco perché non hai ancora raggiunto il successo. Ti è mai capitato di studiare o lavorare e poi arriva una notifica e non riesci a trattenerti dal guardare il telefono? O magari stai leggendo qualcosa e devi rileggerla 20 volte prima di capirla perché non riesci a mantenere l'attenzione su quel libro? Ecco, questo accade perché sei caduto nella loro trappola per topi. Il sistema vuole proprio questo. Vuole che tu non riesca a raggiungere mai le migliori prestazioni. Se no sei pericoloso e infatti ti arriva quella notifica che ti disconnette dal mondo reale e diventi dipendente da quelle dannate notifiche. E di conseguenza lavorare, studiare o diventare migliore diventa super noioso perché per la mente è molto più semplice guardare il telefono e passare in maniera compulsiva da una cosa all'altra senza ovviamente senso. E ahimè questo distrugge la tua possibilità di successo. E se da una parte non è ovviamente colpa tua dall'altra puoi davvero cambiare le cose. Devi solamente comprendere che quando sei impegnato in un'azione che ti avvicina sempre di più al tuo obiettivo non esiste nulla di più importante di quel traguardo. Quindi metti via questo dannato cellulare, disattiva le notifiche e vai a lavorare.